Dovrebbe essere tutto pronto, via gli uomini a posto dietro, partiti. Gigilmatto, Basile Affan, i due galoppo in linea, poi Gigilmatto passa in vantaggio, il 3, Gigilmatto in vantaggio, sul 2, Basile Affan, di fuori il giallo, il 5, Relco India, che all'esterno l'1, Brazilian Sunset. Questo per dare una mano a chi mette i numeri in sovraimpressione. E tra questi Largosher Red Spirit, coda in corda, punta di diamante. Gigilmatto, Basile Affan, Relco in vantaggio, il 3, precede, punta di diamante, con all'esterno Brazilian Sunset in coda, Red Spirit. Sestetto compatto nell'approccio della curva, con Relco che va ai lati di Basile Affan, i due puntano Gigilmatto che allunga a 700 metri dal palo. Punta di diamante per Varkin, cerca di andare nella scia ai primi, mentre Brazilian Sunset sposta all'aico di tutti. In coda Red Spirit. Allunga Gigilmatto da Basile Affan e da Relco India, con Basile Affan che va su Gigilmatto e lo attacca. Basile Affan che sta attaccando Gigilmatto, poi punto di diamante, Brazilian Sunset all'aico di tutti. Con Basile Affan in leggero vantaggio su Gigilmatto, punto di diamante e Brazilian Sunset, Basile Affan in vantaggio su Gigilmatto. che all'esterno Brazilian Sunset, tra i due punti di diamante, Basile Affan rifinisce, vince e lascia vicini Brazilian Sunset, punto di diamante e Gigilmatto. Basile Affan numero due dello schieramento, per il secondo posto, Brazilian Sunset copre, punto di diamante e allo steccato Gigilmatto. Due e poi sono in foto, sono vicini insomma, uno, quattro e tre dall'esterno verso l'interno e per il momento dalla postazione centrale è tutto.